Bentornati su MyFootballJersey! Oggi vediamo una maglia speciale detta icona del Manchester United per la stagione 22-23, in edizione FAN! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La maglia non è niente male, nella mia classifica prende tra virgolette solo 3 stelle, però molto bella l'idea di fare una maglia che ricordi un po' i colori e, diciamo così, la storia del Manchester United. Il costo lo vedete qui sopra, che è aggiungere veramente molto basso per una maglia fatta bene, che arriva anche molto velocemente, questa è arrivata in 21 giorni. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto andate a vedere perché c'è un link col quale potete ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, se il video vi piace e il canale ha dei contenuti che vi interessano, lasciate un grosso like e iscrivetevi, perché è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.